Sarà lo stress della vita di corte, gli impegni infiniti di una principessa, ma Kate Middleton, duchessa di Cambridge e new entry del Palazzo Reale Britannico, dove risiede da otto mesi, a soli trent'anni ha già i primi capelli bianchi. Impietosi i tabloid britannici non si sono fatti pregare per pubblicare la notizia proprio nel giorno del suo trentesimo compleanno. Primo tra tutti il Daily Mail, che riferendo il gossip a fonti impeccabili, ha anche fatto sapere che la principessa è già a corsa ai ripari, facendosi applicare da qualche tempo una tintura vegetale per coprire i primi sgraditissimi fili d'argento. Protagonista è il suo parrucchiere preferito, Richard Ward Hair & Metro Spa di Chelsea, che ha creato la tinta da applicare insieme ai soliti colpi di sole. Risultato, nonostante la mega esposizione pubblica, nessuno si è accorto dell'incanutimento precoce di Kate. Grazie a tutti.